Fissando l'albero con un bicchiere di whisky in mano, Pete era felice che quest'anno sarebbe stato diverso da quello scorso. Stava passando ciò che potrebbe essere chiamato il periodo più strano della sua vita, ma questa volta pensava veramente che sarebbe riuscito a lasciarselo alle spalle. Qual è il periodo migliore di rimettere a posto la propria vita se non Natale? Pete adorava quella festività più di chiunque altro. Per un certo verso l'anno pareva essere stato eterno, ma per un altro sembrava che fosse passato alla velocità della luce. Comunque sia, era felice di poter finalmente dire di esserselo messo alle spalle. Fissando l'albero di Natale, le sue bellissime luci illuminavano la stanza di diverse gradazioni di colori caldi e la neve cadeva silenziosamente dal cielo mentre il sole tramontava. Pete iniziò a pensare all'anno passato, a sua figlia Lana e a sua moglie Janet. Tutto iniziò come un normalissimo dicembre, 12 mesi prima. La piccola cittadina in cui abitavano era ricoperta da uno spesso strato di neve e i residenti passavano gran parte della giornata a pulire i vialetti d'accesso alla propria casa e la moglie di Pete era uscita a fare una delle sue solite escursioni. Era fuori da un paio d'orette, ma anche se Janet era completamente devota alla sua famiglia. Aveva bisogno di momenti per sé, per schiarire i pensieri, per diminuire lo stress che si accumulava per via di un affettuoso ma disorganizzato marito e per via di una piccola bambina dolce, ma che adorava testare il limite di pazienza dei suoi genitori. Quando le tensioni della vita domestica annebbiavano i suoi sentimenti, o iniziavano ad abbatterle un po' il morale, Janet usciva dalla porta del retro della casa e andava a fare un'escursione tra i boschi e i campi che ricoprivano l'intera area, e camminare tra i pini che riempivano il paesaggio. Perciò non erano inusuali le sue improvvise sparizioni per lunghi periodi di tempo, specialmente perché era arrivato il periodo dell'anno in cui toccava a lei decidere l'albero da utilizzare come albero di Natale. Per quanto Pete e Lana le chiedessero se avesse bisogno di aiuto, era il lavoro di Janet. Adorava quella tradizione, il processo di decidere il miglior albero, tagliarlo e poi vedere gli enormi sorrisi sulle facce di suo marito e sua figlia, mentre gioiosamente lo trascinavano dentro e poi lo decoravano con ghirlande scintillanti, adorabili luci ed una miriade di palline colorate. Il luogo in cui abitavano era una piccola cittadina posta su una regione montuosa, molto distante da qualsiasi grande città. Ma Janet e la sua famiglia adoravano la propria casa. La semplicità, la sensazione di essere parte integrante di una piccola comunità e, ovviamente, il paesaggio mozzafiato, lussureggiante durante l'estate scozzesi e freddo e spoglio ma comunque incredibile durante gli inverni. Ma ancora di più, lei amava i boschi di pini vicini, specialmente quelli che si trovavano in cima ad una piccola collina non troppo lontana, ma neanche troppo vicina, a casa loro, perfetti per essere trasformati in alberi di Natale. Ogni anno lei vi si recava e nonostante la quantità di pini continuasse a diminuire dato che qualche vicino ci andava per lo stesso motivo, c'erano molti alberi. Dopo tre ore dalla sua scomparsa, Pete iniziò a innervosirsi dato che non era suo solito stare via per così tanto tempo e dato che stava iniziando a fare buio. Così decise di uscire ed andare a cercarla. Disse a Lana di chiudere tutte le porte e finestre e che non ci avrebbe messo molto. Lei rise mentre Pete le disse che probabilmente la mamma stava avendo problemi a trascinare un albero gigantesco, più grande di qualsiasi albero avessero mai avuto per Natale. Pete amava vedere lo sguardo pieno di eccitazione negli occhi di Lana che spuntava in quel periodo dell'anno. Le disse anche di tenere d'occhio la finestra di camera sua per vedere cosa avrebbero portato. Lei corse immediatamente su per le scale e si appostò davanti alla finestra, dimenticandosi di chiudere tutte le finestre e porte. Così Pete la richiamò giù, la salutò e poi uscì. Fissando quell'albero stupendo, Pete si ricordava quella notte come se fosse ieri. La neve poggiata sul suolo era fredda e si sbriciolava sotto i suoi passi. Piccoli fiocchi cadevano occasionalmente dal cielo, ma le orme di Janet erano ancora visibili. Ma anche senza di esse, Pete sapeva dove fosse andata. La collina in cui Janet si recava ogni anno richiedeva 40 minuti a piedi per raggiungerla. Sceglieva solo i pini di quel posto, anzi a volte ne sceglieva persino due. Di solito ne sceglieva uno alto due metri e uno alto la metà, se ne trovava uno di quelle dimensioni. A volte era difficile trovare alberi piccoli, dato che erano rari in quella zona. A tutti i cittadini piaceva mettere un piccolo albero nelle stanze dei propri figli, quindi salivano sulla collina brandendo un'ascia e prendevano gli alberelli senza farsi troppi problemi. Per questo ce ne erano pochi. Una notte Lana disse che la rattristava il tagliare e uccidere alberelli per il solo scopo di abbellire la casa. Ma Pete le spiegò la tradizione e che era sicuro che sarebbero ricresciuti. Con il passare del tempo lei smise di protestare e anzi iniziò a non vedere l'ora di averne uno tutto per sé. Se non si trovavano alberi piccoli ne usavano uno sintetico. L'albero più grande veniva messo al centro del salotto e veniva abbellito con un vasto assortimento di palline, splendenti decorazioni e luci. L'altro invece veniva messo nella camera di lana e veniva colorato con una bomboletta spray per creare della finta neve e poi ricoperto di bastoncini di zucchero e cioccolatini. Anche se l'era stato detto molteplici volte che ne poteva prendere solo uno per notte. Occasionalmente lana infrangeva questa regola e sperava che nessuno lo notasse. Janet la beccava sempre ma non le diceva mai niente. Dopotutto il periodo di Natale era quello migliore nonostante fosse breve. Più Pete si avvicinava alla collina più aumentava lui la sensazione che qualcosa non quadrasse. Mentre saliva la collina le precipitazioni nevose aumentarono di intensità e il cielo fu ricoperto dalle nuvole. Stando sulla umile vetta notò che l'area era sommersa dal silenzio. L'unico suono appena percettibile era quello dei fiocchi di neve che si appoggiavano delicatamente sul terreno. Pete iniziò a seguire le orme dato che se le precipitazioni sarebbero continuate sarebbe stato impossibile trovare Janet. Presto arrivò il crepuscolo colorando ogni cosa di un blu scuro. Il gelo iniziò a pungere le sue guance rossastre. Le orme proseguivano zigzag attraverso gli enormi pini finalmente fermandosi dinanzi ad un incredibile e spesso albero. Un albero perfetto per il loro scopo. La dimensione era perfetta quasi due metri e mezzo d'altezza. Un colorito verde acceso e uno spesso strato di rami e foglie che rendevano impossibile l'attraversamento della luce. Ma Janet non si vedeva da nessuna parte. Non c'erano più orme, terminavano lì. Lei era stata senza ombra di dubbio lì. Ma dove era andata? Questo mistero era allo stesso tempo interessante e preoccupante. Sembrava impossibile ma eccole lì, le ultime due orme di Janet scolpite nel terreno. Ma la neve tutto intorno era vergine, indisturbata e privata di ogni segno di vita. Pareva che lei fosse scomparsa all'improvviso. Guardando la base dell'albero, Pete tastò un taglio profondo presente nel tronco. Non c'erano dubbi. Janet l'aveva colpito un paio di volte con la sua ascia. Poi, per qualche ignoto motivo, se n'era andata, oppure aveva deciso che quell'albero non andasse bene. Ma quest'ultima opzione era improbabile. Quell'albero era perfetto. Deve per forza essere quello il motivo. Deve aver cambiato albero. Forse, forse per via del nevischio le sue orme erano state coperte. Sì, sì, deve essere così. Pete sapeva però che era una pia illusione. Aveva vissuto lì da anni ormai e in tutto quel tempo non era mai successa una cosa del genere. Poi lo vide, a qualche metro di distanza da lui, immerso per metà nella neve. C'era... c'era un'ascia. Pete corse verso l'oggetto, cadendo una volta per via della profondità della neve. Quando la guardò da vicino, ogni dubbio scomparve. Era l'ascia di Janet. Si trovava in un luogo isolato e senza segni di vita umana. Così come il luogo in cui finivano le orme. Pareva come se l'oggetto fosse caduto da una grande altezza. Ma Pete non osò speculare. Il pensiero che Janet fosse ferita e si trovasse in un luogo sconosciuto fece aumentare la sua ansia e la sua preoccupazione. Urlò il nome di sua moglie ripetutamente, ma non ricevette nessuna risposta. Intanto l'oscurità avanzava lentamente. Se lei fosse ferita, lui dovrebbe allarmare la città e farsi aiutare nelle ricerche, assieme alle squadre di soccorso alpino. Non esisterebbe molto esposta a quel freddo pungente. Iniziò a provare un miscoglio di sentimenti, panico, preoccupazione, paura ed un dolore che si può trovare solo tramite l'amore. Con la torcia in mano proseguì nella direzione in cui l'aveva portato l'ascia. Appena Pete entrò in una zona della collina fittissima di Pini, notò che il terreno era ricoperto da rametti spezzati, come se qualcosa avesse attraversato il bosco in fretta e furia. Forse Janet è passata di qui, l'ammontare dei danni, comunque appariva troppo grande per essere stato causato da una sola persona. Se Pete fosse stato in qualsiasi altro luogo avrebbe presunto che fosse stato un orso, ma in quella zona della Scozia sono stati cacciati fino all'estinzione, insieme ai lupi e a qualsiasi altro predatore. Per un momento la sua torcia elettrica illuminò qualcosa che stava strisciando sotto un cespuglio, ma dalle dimensioni sembrava un insetto, perciò troppo piccolo per aver causato tale distruzione. Pete aggiustò la sua sciarpa, cercando di coprire il più possibile il suo viso dato che il freddo si stava facendo sempre più pungente, ma proprio quando finì qualcosa attirò la sua attenzione, qualcosa appoggiata al suolo. Illuminandola con la torcia vide ciò che a primo impatto appariva come una carcassa di animale, ma dopo una più attenta ispezione notò che era il corpo di Janet in posizione fetale che riposava pacificamente sul terreno. Un attacco di cuore, dissero, un attacco di cuore, ma Pete aveva visto il suo volto, aveva visto quegli occhi, un tempo pieni di gentilezza, ora pieni di terrore, freddi, spenti, neri dalla paura. Le sue mani erano serrate davanti a lei. Il patologo disse a Pete che era perfettamente normale essere in quella posizione quando si viene colpiti da un gigantesco attacco di cuore in temperature così basse. Così come quello sguardo, anche se nel momento in cui il dottore gli disse questo, Pete notò un luccichio nei suoi occhi, come se anche il patologo fosse confuso da quello sguardo. Uno sguardo che Pete non si sarebbe mai dimenticato. La cara Janet, l'amore della sua vita, madre dei suoi figli, morta da sola nel freddo, con le labbra retratte e suoi denti in vista dall'agonia. Il suo viso congelato in un'espressione disumana. L'intera situazione lo devastò, se non fosse stato per sua figlia Lana, per l'importanza della sua vita rispetto a quella di lui, Pete non sarebbe mai riuscito ad andare avanti. I dodici mesi passati erano stati pieni di situazioni che gli continuavano a riportare in mente quella dolorosa perdita. Come ogni lutto, la prima volta che Pete fece qualcosa che di solito faceva insieme a sua moglie. Rendeva il dolore più intenso. Il primo Natale, il primo giorno di lavoro, il primo passaggio a scuola dato a sua figlia, la prima riunione di famiglia. Ogni sguardo di ogni persona era pieno di preoccupazioni, accompagnata dalla solita frase come riesci ad andare avanti. Deve essere stata davvero dura per te. E l'ancor più comune, se c'è qualcosa che posso fare? Aiutare sua figlia a superare la morte di sua madre era l'unica cosa che lo faceva svegliare la mattina. Ma finalmente era tutto finito. Avevano attraversato l'orrore, la negazione, le cene silenziose, i solitari pianti di disperazioni notturni, i compleanni vuoti e cupi. avevano attraversato tutto questo. Tutte le prime esperienze erano terminate. Erano passati dodici mesi dalla morte di Janet. E questo lo rendeva euforico. Gli mancava la sua presenza, comunque ogni giorno. Il dolore non l'avrebbe mai abbandonato, ma la sensazione di forza, qualcosa che fino a quel momento l'aveva abbandonato, che provava dal fatto che era riuscito a resistere per un anno, lo riempì per la prima volta di pensieri per il futuro. Finalmente capì che la vita va comunque avanti, anche se si ha lasciato indietro le persone più importanti. E invece della sua bellissima figlia, la cara e gentile Lana, la sua empatia e la sua forza l'avevano lasciato di stucco, caratteristiche che nessuna della sua età dovrebbe possedere, ma che erano comunque benvenute. Quando lei si metteva a piangere, lui era sempre presente, ed in più di un'occasione quando lui era sdraiato sul letto matrimoniale di notte a piangere a fissare il vuoto. Lana lo svegliava e si sdraiava a fianco a lui, per poi piangere insieme fino a che non si sarebbero addormentati entrambi. Lei era stata la sua ancora di salvezza e per ripagarla di tutti gli sforzi avrebbe dovuto passare il miglior natale della sua vita. Pete aveva già preparato molte cose. Aveva speso una fortuna per ogni regalo immaginabile, aveva riempito la casa di ogni tipo di cibo e dolce che lei adorava e entrambi i genitori di Janet sarebbero arrivati per trascorrere la cena di Natale con la loro adorata nipotina. Aveva anche organizzato una festa con pernottamento con gli amici di Lana per Santo Stefano, una cosa che lei aveva sempre chiesto. Pete sapeva che un giorno l'avrebbe accontentata. Lei non ha mai chiesto tanto, ma quest'anno, questo Natale, sarebbe stato meglio di quanto lei riuscisse ad immaginare. La casa era perfetta, ma mancava ancora una cosa, una cosa che Pete sognava di fare da quando, quella notte, vide il corpo di Janet. Lei aveva scelto quell'albero, cascasse il mondo quell'albero sarebbe stato nel loro salotto, adornato con qualsiasi tipo di ornamento natalizio. Quello era il suo scopo, il motivo della sua esistenza. Janet non aveva finito di tagliare quel dannato albero. Pete si sarebbe assicurato di completare tale opera. Il giorno dell'anniversario della sua morte, Pete attraversò la neve, facendosi strada tra i pini finché non si trovò davanti quell'infausta collinetta. Il sole la illuminava caldamente e non faceva così freddo come la notte in cui Janet morì, ma ogni passo era accompagnato da una sensazione di disagio e di nausea. Ogni passo era un ricordo dell'anno passato e di quel terribile dolore. Marciò verso la vetta in cui assistì alla morte prematura di Janet. Stando lì davanti al posto in cui un tempo si trovava il corpo di sua moglie. Pete asciugò le lacrime che colavano dagli occhi e appoggiò una piccola statua di Babbo Natale sul terreno, sotterrandola nella neve. Quell'ornamento veniva sempre appeso sui rami dell'albero di Natale ed era il preferito di Janet. Gli pareva giusto che stesse con lei. Dopo altri minuti di viaggio. Eccolo là, ancora in piedi. Quel dannato albero. Come se fosse assetato di vendetta, Pete tirò fuori dallo zaino l'ascia di Janet e corse verso l'albero. Colpì ripetutamente, esattamente dove Janet aveva iniziato l'anno precedente, rendendo il taglio più profondo con ogni colpo, applicando tutta la forza che possedeva. L'albero gemette e cigolò come se stesse provando dolore. Ma a Pete non importava. Quell'albero era l'ultimo ricordo della morte di Janet. Qualsiasi cosa accadde quella notte, accadde per via di quell'albero. Per quanto possa sembrare folle, per un momento ebbe senso. Ma poi, il momento di lucidità fu oscurato dalla mondana realtà. Era morta per via di cause naturali. Con un ruggito di legno spezzato che cede per via del proprio peso, l'albero si inclinò e cadde a terra, sconfitto. Legando una corda attorno al tronco e poi usandone un'altra per piegare i rami verso l'interno, Pete trascinò quel ricordo, quel simbolo di brutalità della natura. Attraverso la neve, oltre l'erba, la ghiaia ed infine la sua porta del retro. Era vittorioso. Ignorando il tappeto e i mobili, trascinò l'albero su per le scale e nella casa, per poi posizionarla davanti alla finestra del salotto, poggiandolo sopra un piccolo e vecchio ceppo che usavano come sostegno ogni anno. Senza fiato e coperto di sudore, squadrò l'albero che ora si erigeva fiero nel suo salotto. Ne hai scelto uno perfetto, amore. Ne hai scelto uno veramente perfetto. Trattenne le lacrime e aspettò che Lana ritornasse a casa. Pete mise su un vecchio film natalizio come sottofondo, mentre decoravano l'albero insieme, cantando, ridendo, come una famiglia. C'erano dei momenti in cui i loro sguardi si incontravano. Avevano entrambi uno sguardo che mostrava un dolore nascosto. Uno sguardo che sembrava dire, manca anche a me. Ma era Natale e i momenti di rimorso passarono, scacciati da altri più lunghi ed intensi di felicità. Larghi sorrisi stampati sulla faccia e uno spirito festivo riempivano la casa, che era stata per troppo tempo un luogo di tristezza e disperazione. Al calar della notte, e dopo che Lana andò a letto, più presto del solito, dato che l'eccitazione l'aveva stancata, Pete decise di premiarsi per gli sforzi di quel giorno. Le luci erano spente e dopo aver versato in un bicchiere un po' di whisky, si sedette sulla poltrona del salotto a fissare l'albero. Era veramente una vista mozzafiato. il miglior albero che Pete avesse mai visto. Questo è per te amore, disse alzando il bicchiere verso il cielo in un gesto simbolico. Fissando l'albero, le sue bellissime luci diffondevano un senso di pace per tutta la stanza e la neve cadeva pacificamente durante il tramonto. Pete iniziò a pensare all'anno passato, a sua figlia Lana e a sua moglie Janet. Il tempo passò lentamente mentre ripensava a tutto ciò che era finalmente finito. Fino a quel momento erano andati avanti tramite dolore e sofferenza. Ma ora sperava nel futuro, un futuro pieno di almeno una qualche minima quantità di felicità. Il bagliore dell'albero si rifletteva sulla finestra, ma penetrava abbastanza da illuminare lo spesso strato di neve fuori. La stanza rimase buia, ma le luci dell'albero spargevano una calda atmosfera natalizia che, accompagnata al tremolio arancione del fuoco nel camino, non fece altro che aumentare l'impazienza che arrivasse Natale. Per la prima volta in un anno, Pete era felice. Qualcosa lo infastidiva però. C'era una piccola sensazione di preoccupazione o scocciatura nei meandri della sua mente. Qualcosa stava rovinando l'atmosfera. Sorseggiando il suo whisky, vide finalmente qual era il problema. Due delle luci natalizie tremolavano occasionalmente, non costantemente ma abbastanza spesso da essere notabile e, ancor più importante, irritante. Finendo ciò che restava del suo drink, Pete si alzò, sentendo gli effetti dello sforzo muscolare causato dall'aver trascinato l'albero fino a casa. Avvicinandosi all'albero, confermò il tremolio delle luci. Ma c'era qualcosa di strano. Sembravano fossero attaccate al tronco invece che ai rami, come gli altri. Di nuovo, Pete fu sorpreso da quanto fosse buia la zona che circondava il tronco dell'albero. Anche se c'erano luci tutte intorno, non riusciva a vedere attraverso i rami. Anche le luci in profondità parevano non illuminare l'ambiente intorno. Il bicchiere vuoto gli scivolò dalle mani, rompendosi sul pavimento. Le luci erano a posto, non stavano tremando, ma l'occasionale battito di due occhi tra i rami attirò la sua attenzione. Pete rimase petrificato e gli parve che la stanza fosse ancora più buia. Qualcosa si aggirava tra i rami, tra il nocchio e la superficie porosa. Qualcosa ci viveva lì. Non poteva muoversi, i suoi piedi erano incollati al pavimento, mentre i due occhi iniziarono ad avvicinarsi. Stridendo, una faccia sbucò dai rami, come se stesse filtrando dal punto più profondo dell'albero, coperto di muffa, antico, contorcendosi dalla rabbia. La paura cominciò a scorrere nelle vene di Pete. Il suo cuore iniziò a battere sempre più velocemente, al continuo avvicinarsi della faccia. E gli occhi privi di pupille, ora erano sommerse da un esasperante giallo. E più in basso, tra i rami, si fecero strada due sottili gambe coperte di muschio. Con stridie gemiti di legno, si raddrizzò, ergendosi in tutto il suo splendore davanti all'albero. Fuori oramai era buio pesto, e Pete capì subito che quell'animale, no, non animale, quella creatura, era notturna. Ma il suo sguardo giallo lo faceva sentire indifeso. Il cuore gli batte all'impazzata. Percepì un tremolio. Poi provò un dolore incredibile al braccio sinistro. Strinse il torace con la mano, ma i piedi rimasero attaccati al pavimento. Ed era impossibile distogliere lo sguardo da quegli oceani gialli. La creatura si avvicinò. Con il dolore che stava provando, Pete sapeva che sarebbe morto. Sarebbe stato trovato come Janet, freddo, con la faccia contorta. E la seconda vittima dell'essere che viveva tra i pini di quella collina. Il dolore era insopportabile, ma la paralisi non gli permise nemmeno di urlare. Con la poca luce rimasta proveniente dal caminetto che illuminava il suo volto, allungato in un lato e pulsante nell'altro. La caratteristica più vistosa era un buco grande e nero posto al centro del viso, al posto del naso e della bocca. Proprio mentre la testa della creatura si fermò, a pochi centimetri da quella di Pete, e il buco nella sua faccia stava per toccare la bocca dell'uomo. Un sogginio involontario mise in mostra i denti di Pete. Poi, quell'unica parola, una parola così potente, così pura, che persino le intenzioni più malevoli vengono scacciate solo dall'udirla. Papà! Con gli scricchioli del legno in sottofondo, lo pseudo gargoi volto il suo penetrante sguardo giallo verso l'ana. Eretta in piedi alla fine della rampa di scale, ancora nel suo pigiama, il suo urlo riecheggiò nella notte. La creatura allungò le braccia con le dita tremolanti mentre faceva muovere le sue gambe coperte dal muschio, avvicinandosi in modo peculiare e con moto sbilanciato verso di lei. L'ana rimase paralizzata dal suo sguardo e con ogni suo passo il suo viso si contorse sempre di più. Il dolore che provò il busto la stava portando sull'orlo dello svenimento, per quanto intenso fosse il suo sguardo antico. Era attento, così attento che notò Pete strisciare verso la cucina. I movimenti insicuri della creatura di legno la facevano sembrare più, più una marionetta che un vero essere vivente. E mentre si avvicinava verso l'ana, mise le sue mani intorno alla sua faccia e la fissò con i suoi occhi spalancati e senza pupille. Lacrime iniziarono a scivolare lungo le guance della figlia. Il suono di passi riempì la casa e mentre l'essere si contorceva per investigare, si sentì un rumoroso crack quando Pete si alzò di scatto, corse sul divano e saltò verso la creatura, infilando l'ascia di Janet nel profondo della sua colonna vertebrale. Dalla ferita non uscì sangue, ma un'orda di creature simili ad insetti. Invece di un urlo di dolore, la creatura emise un crescendo di stridì e schiocchi prima di lanciare Pete sul pavimento e scappare dalla porta sul retro. Il padre di lana si lanciò all'inseguimento, ma fu impossibile. L'abominio di legno si muoveva con una velocità inimmaginabile, attraversando la neve senza lasciare nessuna traccia. Dopo una visita all'ospedale più vicino, sia lana che suo padre ricevettero una patente sanitaria pulita, ma non ritornarono in quella casa, piena di memorie di bei tempi passati, memorie di una madre, una moglie, un'anima gentile, di compleanni e matrimoni e ovviamente del periodo di Natale. Pete non sapeva cosa fosse quella creatura, se fosse viva o morta o qualcos'altro di inimmaginabile per la mente umana, ma fece la solenne promessa che da quel momento in poi non avrebbe mai più tagliato un albero, decorato e trovato compiacimento nella sua lenta morte. Perché, per quanto belli potessero apparire, per quanto calore possano dare, per quanto possano rappresentare il Natale, non si sa mai cosa potrebbe vivere al loro interno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.